Continua la campagna abbonamenti della SSD Palermo. Da qualche giorno infatti sono più di mille le tessere sottoscritte per la stagione 2019-2020. A comunicarlo attraverso i propri canali ufficiali è stato il club Rosa Nero. Nel frattempo la formazione di Rosario Pergolizzi è impegnata nel ritiro di precampionato che i Rosa Nero stanno svolgendo nella località di Petralia Sottana, in attesa dell'inizio della prossima stagione. Migliaia sono stati tifosi che in occasione della prima amichevole dei Rosa si sono recati nel comune Madonita per dare il proprio supporto alla squadra. Intanto la città si mobilita per l'azionariato popolare. Termine ultimo per la candidatura è il 31 ottobre. Fino ad oggi alla società Rosa Nero è arrivata una sola proposta, quella del Palermo FBC 1900, supporter trust di Sergio Napoli, che ha diramato un comunicato stampa contenente i punti salienti del progetto. E' una grande opportunità di ribadire la nostra appartenenza alla città di Palermo, si legge nella nota, e dimostrare la forza del popolo di noi tutti tifosi Rosa Nero, che dovrà essere molto più forte di quella che siamo capaci di trasmettere dagli spalti del nostro Barbera, spingendo alla vittoria i nostri colori contro qualsiasi avversario, compatti e consapevoli portatori della nostra identità e dei nostri ideali. Palermo FBC 1900, supporter trust, intende quindi chiarire, come chiede il presidente Dario Mirri, quanta importanza ha l'essere uniti. Unico fattore che può realizzare la partecipazione nel capitale della SS di Palermo. Palermo FBC 1900, supporter trust, è soggetto giuridico regolarmente già costituito e strutturato. Da sempre pensato per essere associazione rappresentativa, unica di tutti i tifosi, supporter trust Rosa Nero, dove la parola trust ha un chiaro significato, fiducia, fede. FBC 1900 segna oggi la continuità con il passato di oltre 30 anni fa, quando il comitato pro Palermo realizzò la prima partecipazione popolare, avendo tra i promotori Sergio Di Napoli, oggi tra i fondatori come lo fu allora. Per il raggiungimento di questo obiettivo unitario, preme ribadire che Palermo FBC 1900, supporter trust, è costituito con atto pubblico presso lo studio del notaio Alessandro Carducci Ardinesio, in Palermo, è strutturato con proprio statuto, costruito sul modello Football Club Barcellona, è attivo con proprio portale ufficiale, conto corrente bancario e online, dedicati al versamento delle quote di partecipazione. E' ente candidato nella sezione azionariato sul portale di Palermo SSD. FBC 1900 è il risultato candidato idoneo all'avviso del sindaco di Palermo, con propria manifestazione di interesse tramite azionariato popolare, per l'iscrizione della squadra di calcio della città di Palermo al campionato di Serie D. E' già operativo nella raccolta di sottoiscrizioni, tramite la quota associativa come socio ordinario 10 euro, 5 euro per gli under 18, socio sostenitore con una quota superiore a euro 10, destinata esclusivamente all'azione ariato.